La comunità di Falcone non può certo dimenticare quanto accadde l'11 dicembre 2008, quando a seguito di piogge torrenziali esondarono i torrenti e acqua e fango si riversarono su tutto il territorio, devastando negozi, abitazioni e strade. Anche in funzione di quanto avvenne allora, l'amministrazione del sindaco Antonino Genovese ha sollecitato il responsabile dell'area tecnica, architetto Patrizia Spinella, a predisporre progetti sui torrenti che attraversano il paese. Messa in sicurezza del torrente Licona per 243.000 euro, messa in sicurezza del torrente Feliciotto per 50.000 euro e infine messa in sicurezza del torrente Aranzo per 151.000 euro. Il tecnico comunale ha ricevuto l'assist dall'esecutivo per progettare interventi di miglioramento del percorso naturale dei corsi d'acqua, conservamento della vegetazione esistente, arbusti, cannerici e spugli, smaltimento dei rifiuti e materiali depositati negli alvei, risagumatura del greto e la creazione di argini, dove siano mancanti con il materiale esistente movimentato in sito. Per questi tre progetti l'architetto Spinella ha nominato RUP il geometra Michele Carbone. Nel contempo l'esecutivo genovese invierà i progetti all'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, diretta dall'ingegnere Leonardo Santoro, per ottenere il finanziamento.